Grazie, allora se mi sentite buonasera, ringrazio molto dell'invito che ovviamente per me anche l'opportunità di raccontare oltre la mia città quella che è stata un'esperienza sicuramente controcorrente anche nella gestione delle crisi ambientali e delle emergenze ambientali perché per chi non lo sappia nel comune di Napoli insiste il quartiere di Bagnoli dove c'è stata per tanti anni poi l'industria accessato nel 1997, l'Ital Sider di Bagnoli, una grande fabbrica siderurgica poco inferiore all'ilva di Taranto, quindi insomma insieme all'apertusola di Crotone il triangolo siderurgico dell'Italia meridionale. Bagnoli è stato un grande scandalo di cui me ne sono occupato anche da parlamentare europeo prima di fare il sindaco perché presiedevo la commissione controllo bilancio del Parlamento europeo che si occupava appunto di come vengono spesi i soldi dei contribuenti europei e Bagnoli ha beneficiato negli anni soprattutto nella prima parte del 2000, dal 2000 al 2010 di molte molte risorse pubbliche che dovevano essere destinate alla bonifica e su questo poi si è acceso un dibattito molto interessante sul piano scientifico e sul piano politico cioè come dovesse essere la bonifica perché anche le bonifiche dipende come le fai perché possono essere le bonifiche serie, integrali, omnicomprensive o finte bonifiche con una serie di stratificazioni che poi non garantiscono la salute dei cittadini. Questo denaro pubblico è stato in gran parte, nella maggior parte, disperso, sperperato. Purtroppo non posso usare parole più tecnicamente appropriate perché la magistratura diciamo è arrivata molto in rilento, in modo non particolarmente esaustivo quindi una serie di processi anche che si sono fatti sono finiti tra prescrizioni, assoluzioni, rinvii, condanni alcuni sono ancora in corso quindi è evidente a tutti, a quelli che hanno letto le carte che c'è stato un grande, una grande distrazione di denaro pubblico, un grande sperpero, questo è un fatto assolutamente oggettivo. Poi se ci fossero stati dei delitti e dei crimini non compete a me dirlo alla magistratura ma ahimè mi sa che questa rimarrà una pagina da un punto di vista giudiziario purtroppo incompiuta. Quello che è certo è che questo fiume di denaro pubblico non ha realizzato la bonifica. Ma quello che è ancora più grave è che non solo questo denaro destinato alla bonifica e alla riqualificazione di Bagnoli non ha raggiunto il suo obiettivo principale che era quello di sanamento e della bonifica ma la politica ha pensato bene realizzando anche una società per azioni che era la Bagnoli SPA che doveva effettuare bonifica e rilancio di Bagnoli hanno realizzato delle opere pubbliche su terreno completamente contaminato. Quindi su Bagnoli c'è un parco dello sport finito che non si è mai potuto inaugurare e che si deve semplicemente abbattere, ci sono costruzioni che sono state realizzate su terreni non bonificati. quindi al di là di quella che la vicenda giudiziaria, una vicenda erariale della Corte dei Conti è un disastro totale sul piano politico e sul piano amministrativo. Con questo quadro cioè di una politica di centrosinistra sia in comune che in regione che aveva completamente fallito, io poi vengo eletto sindaco nel 2011. Ovviamente al centro anche del mio programma e del nostro programma elettorale c'era innanzitutto la spiaggia pubblica, lo dico perché su Bagnoli insiste una spiaggia importante della città di Napoli, dell'area occidentale che purtroppo da quando c'è la fabbrica, insomma che non si è fatta la bonifica, il mare non è balneabile, al massimo si può fare l'elioterapia negli ultimi tempi e quindi nel progetto c'era quella della spiaggia pubblica e del lungomare pubblico, quello che poi è realizzato nella parte centrale della città, su via Garacciolo e in parte sulla zona orientale di Napoli che è anche una zona industriale. Quindi c'era il progetto della bonifica integrale, quindi la totale bonifica di tutta l'area di Bagnoli con la rimozione di tutte le sostanze inquinanti, in particolare dell'amianto e dell'Eternit e quindi fatta la bonifica e quindi non altri tentativi apparenti di bonifica che non avrebbero garantito la salute dei concittadini e di tutti quelli che avrebbero poi attraversato quel territorio nel futuro, abbiamo anche poi previsto il progetto di riconversione industriale e di riqualificazione di Bagnoli. Noi siamo partiti in questa direzione, siamo partiti bene anche riuscendo a utilizzare dei fondi europei in maniera corretta, poi durante il percorso più o meno a metà del guado del mio mandato di sindaco ci siamo trovati sotto la presidenza del Consiglio di Matteo Renzi. Quando Matteo Renzi era l'uomo più potente d'Italia perché era segretario del Partito Democratico, presidente del Consiglio e aveva più o meno, se non ricordo male, preso oltre il 40% alle elezioni europee. Lui aveva pensato bene ovviamente di arrestare questo corso rivoluzionario che stiamo facendo a Napoli, prevedere il commissariamento di tutta l'area di Bagnoli con la pretesa di andare più rapidi, la solita litania che cacciano quando dicono che vogliono fare presto per fare i commissariamenti, fare lo stato di eccezione, avere poteri speciali ma non per fare presto e bene, ma per derogare alle norme ordinarie, avere le mani libere per avere le mani in pasta. Quindi ovviamente è un progetto completamente diverso dal nostro, affidamento dei terreni ai privati, consumo di suolo, una serie di cose ai limiti dell'iscito e soprattutto quello che era scandaloso in questo commissariamento in violazione totale di tutto l'ordinamento giuridico e anche della stessa carta costituzionale, era previsto l'esautoramento di qualsiasi funzione non solo del sindaco e della giunta comunale ma anche del Consiglio comunale che come tutti sanno ha una potestà precipua proprio in materia urbanistica e di pianificazione del territorio. Quindi un vero e proprio usurpazione di poteri, un vero e proprio diciamo golpe istituzionale e politico provenendo da un'impostazione centralistica ovviamente strizzando l'occhiolino a tutti quei poteri privati che avevano gestito e poi su questo ci ritorno e volevano rimettere le mani su Bagnoli. Iniziamo un'opposizione durissima, l'opposizione fu politica, fu mia personale, della giunta, della municipalità, ci sono stati cortei, manifestazioni, una imponentissima quando Renzi venne al Teatro San Carlo, il Teatro San Carlo fu circondato, il presidente del Consiglio comunale e due assessori sono stati manganellati anche dalle forze di polizia, abbiamo fatto ricorsi al Tarra, alla Corte Costituzionale, al giudice ordinario, insomma ve la faccio breve ma in realtà Renzi è stato respinto, è stato respinto sia sul piano popolare e politico sia sul piano giuridico e poi vabbè con un modo magari che un po' fa anche un po' sorridere per certi versi però per dirla come la battaglia è stata una battaglia della città poi dopo la vittoria proclamammo il comune di Napoli comune di Renzizzato e fu salvaguardato la difesa delle prorogative costituzionali. L'ho detta breve però è stata una battaglia bellissima, giuridica, politica, poi il nostro progetto era talmente fatto bene, condiviso con i movimenti, con le associazioni del territorio, di Bagnoli, della decima municipalità che dopo Renzi venne il governo Gentiloni con il quale firmammo un accordo e devo dare atto che a Gentiloni dopo la sonora sconfitta politica sul campo tra l'altro anche perché è stata anche una rivolta di piazza, Gentiloni non solo ha condiviso il nostro lavoro ha firmato l'accordo quindi è stato un risultato e un successo straordinario. Ci tengo a dire che Bagnoli come tante cose che abbiamo fatto durante il mio mandato come Scampia e il progetto di abbattimento delle vere sono tutti progetti partecipati dal basso, cioè tutti i progetti sulla Bagnoli del futuro, il verde, consumo di suolo zero, riconversione industriale, alloggi per studenti, edilizia popolare, beni comuni, spiaggia pubblica, lungomare, tutti i progetti condivisi punto per punto con tutta la cittadinanza dell'area occidentale di Napoli e della decima municipalità. Quindi non semplicemente ascoltando come si fa che si ascoltano tutti per poi non far decidere la città, è stato deciso insieme alla città, cioè è stato deciso insieme a tutte le associazioni, a tutti i movimenti, centri sociali, collettivi, municipalità, professionisti, abbiamo sentito tutti, ovviamente anche con idee diverse, ma alla fine è uscito un progetto molto bello perché la bonifica adesso è quasi finita, insomma è passata la nostra idea della bonifica integrale e soprattutto ci tengo molto che prima che io finissi di fare il sindaco c'è stato anche il bando con cui abbiamo messo a gara internazionale la Bagnoli del futuro, quindi non speculazioni con una forte visione pubblica, il coinvolgimento dei privati ma in modo intelligente, con una ricaduta sul territorio, con un'idea di impresa di comunità, di consorsi, di cooperative e anche sul città della scienza che fu incendiata in un incendio molto strano nel 2013, noi abbiamo temuto che venisse meno un po' uno scempio urbanistico, cioè quello che città della scienza era stata realizzata sopra il mare, quindi nel nostro progetto c'è la ricostruzione di città della scienza ma l'arretramento verso dove ci sono le ciminiere e dove insomma si fa il piano di riconversione industriale. Città della scienza è un museo in qualche modo futuristico della scienza che ha avuto anche un certo successo ma che ha aperto molto dibattito in città, vabbè non entro troppo nei dettagli cittadini. Come voleva si immaginare adesso il laboratorio Manfredi dove siamo tornati alla restaurazione, mi dispiace che sia un laboratorio PD 5 Stelle ma siamo in piena restaurazione, si sta tornando a mettere in discussione tutto, il piano per Bagnoli, l'approvazione della gara pubblica, la città della scienza, la spiaggia pubblica, i beni comuni, si è ritornata alla politica degli interessi, di andare sotto braccio con i poteri forti, con i grandi padroni, insomma siamo tornati a quel centrosinistra fotocopia delle destre dove poi il popolo preferisce le destre alle fotocopie. Noi però comunque faremo la nostra parte. io ci tengo però a raccontarvi anche una cosa molto importante che secondo me può essere eseguita da altri sindaci se ne hanno la voglia, il coraggio e la forza perché è uno strumento molto innovativo che abbiamo utilizzato a Napoli dove chiaramente è prevalsa anche la mia esperienza di magistrato, di pubblico ministero e quindi diciamo sicuramente ho avuto questa intuizione dove poi devo dire però gli uffici del comune mi hanno seguito, soprattutto l'avvocatura che è stata molto brava, il mio capo di gabinetto, abbiamo fatto un lavoro veramente importante perché io seguendo un po' quella che era la giurisprudenza in particolare di Raffaele Guarimiello ma non solo, del chi inquina paga, io mi sono chiesto nel momento in cui la magistratura non arriva, sta arrivando male, sta arrivando tardi, io che posso fare come sindaco visto che ho la responsabilità, lo ricordo il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica dei cittadini, posso fare qualcosa come sindaco per ordinare, quindi poteri di ordinanza che è il sindaco in materia di salute, per ordinare a chi ha inquinato di risarcire, di pagare chi ha subito un danno. Detta così sembrava una butata, una uscita un po' fantasiosa, un po' creativa invece ci siamo messi a studiare, devo dire insieme al capo dell'avvocatura Fabio Ferrari, molto bravo abbiamo prodotto alla fine un'ordinanza, senza precedenti, l'ordinanza è a vostra disposizione se volete ve la mando, credo sia disponibile anche consultando il sito del comune ma altrimenti ovviamente è a vostra disposizione, è datata primo dicembre del 2013, quindi esattamente dieci anni fa, dove io ordino dopo aver fatto una ricostruzione precisa sui soggetti che avevano inquinato Bagnoli in base ai dati giudiziari, in base ai dati fattuali, agli studi, ai dati scientifici, c'è un lavoro molto serio sul piano scientifico, quindi non congetture, siamo arrivati innanzitutto a individuare chi aveva inquinato Bagnoli e là si comprende anche tanto di come siamo stati poi dopo quel giorno affettuosamente trattati nella nostra città con il tappeto rosso, i guanti di velluto e i concerti della fanfara dei carabinieri, perché i due soggetti che hanno inquinato Bagnoli sono praticamente Fintecna, quindi Cassa Depositi e Prestiti, quindi il governo, quindi lo Stato, quindi il primo soggetto inquinatore di Bagnoli è lo Stato, il secondo soggetto cementi il gruppo Caltagirone, il proprietario del mattino che è il principale giornale della città di Napoli, a cui Renzi cominciava a strizzare l'occhio quando decise di commissariare Bagnoli. Ovviamente sta all'intuito di tutti di quest'uditorio che è qualificato di comprendere come un minuto dopo non solo il governo ma soprattutto il principale quotidiano della città incominciò a ulteriormente accogliere in maniera affettuosa il mio mandato di sindaco. L'ordinanza era di 270 milioni di euro, quindi era un'ordinanza importante che ci consentiva di trovare i fondi anche per completare la bonifica. Questa ordinanza adesso è diventata definitiva perché è stata impugnata ovviamente dai soggetti a cui abbiamo notificato l'ordinanza, al TAR. Il TAR ci ha dato torto, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, si è arrivati fino alle sezioni unite della Cassazione, alla Corte Costituzionale, insomma sono stati percorsi tutti i gradi in dieci anni, alla fine la nostra ordinanza è rimasta là, ha avuto successo ed è stata seguita ovviamente con il decreto ingiuntivo. Questo è un grande successo della città, un grande precedente giuridico di cui ovviamente se ne parla poco perché non conviene parlarne. Io più volte ho detto ai vari governi che sono succeduti di essere sempre contrarie ai commissariamenti, però ovviamente ho anche detto a un certo punto ma se proprio siete innamorati di questo commissariamento, scusate ma perché non nominate il sindaco? Visto che noi abbiamo un progetto di rilancio di bagnoli, bonifiche, abbiamo fatto l'ordinanza che inquina paga eccetera eccetera, vi lascio immaginare che non mi hanno mai nominato commissario, come ho finito di fare il sindaco trenta giorni, sessanta giorni dopo che ho finito di fare il sindaco, non solo hanno dato al sindaco Manfredi un fiume di denaro pubblico con il patto per Napoli voluto dal governo Draghi e da tutti i governi, da tutti i partiti che l'appoggiavano, ma Manfredi è stato nominato commissario di Bagnoli. Quindi questa è la storia di una delle pagine più belle di democrazia partecipativa di Napoli, ma io penso anche, consentitemi ovviamente senza presunzione, ma con grande orgoglio, forse tra le pagine che andrebbe maggiormente studiata in Italia, perché ha messo insieme popolo, ha messo insieme diritto, ha messo insieme costituzione, ha messo insieme anche coraggio interpretativo delle norme sul piano estensivo, coinvolgimento, lotta, manganellate, criminalizzazione del dissenso, contrasto col governo, il principale giornale della città, poteri forti, Camorra che c'è stata dietro ai traffici di rifiuti, compreso Bagnoli, insomma ci è costata molto, Bagnoli ci è costata molto, è una delle lotte che ci è costata di più, però sta ancora là purtroppo questa amministrazione la sta smantellando pezzo pezzo, recentemente hanno fatto un convegno nel quale si sono rivisti, vabbè nomi magari a voi meno noti, ma è Giulio Di Donato, Icardi, cioè personaggi della prima repubblica, quelli travolti dalla prima ondata di Tangentopoli, eppure questo sindaco viene fortemente portato dai Roberto Fico, dai Ellis Line, da quello che dovrebbe essere il laboratorio della costruzione, quindi dell'alternativa alle destre. Per carità, sono sicuramente meglio delle destre, però credo che se si studiasse un po' di più l'esperienza napoletana potrebbe essere di incoraggiamento per tante altre città dove probabilmente ci sono gli stessi germogli, gli stessi fermenti e dove dobbiamo provare a costruire dal basso, in ogni luogo, in ogni territorio, secondo me, questa è la mia esperienza di uomo delle istituzioni e di uomo politico, l'unico antidoto per sconfiggere il sistema è provare a creare una connessione tra il popolo che diventa partecipativo, non rassegnato, non omologato, non addormentato, non incattivito, ma indignato e motivato con persone credibili che hanno valori forti, che si riconoscono nella Costituzione e che non tradiscono, possono sbagliare perché tutti sbagliano e tutti sbagliamo, ma quando si siedono su quelle poltrone in cui devi esercitare il potere riescono effettivamente a coniugare quei valori di onestà, di autonomia, di indipendenza, di libertà, di competenza, di responsabilità, di coraggio, di dedizione, perché altrimenti non ne usciamo. Perché guardate, i tentativi che utilizza il potere per annientarti quando vai controcorrente sono di una violenza istituzionale che è molto, molto più violenta delle manganellate, ma molto di più. Tra l'altro la manganellata produce sempre una reazione di indignazione, perché si vede, produce sangue, la gente protesta, ma quei proiettili istituzionali fatta di embargo, di sanzioni, di legge ad hoc, di taglio di fondi, di campagne mediatiche, di isolamenti nei luoghi istituzionali, di trattarti come un appestato, come un isolato, come un folle, come un sovversivo, come un ribelle, come un masaniello, come un socialmente pericoloso. è uno stilicidio, come le stalattite e le stalagmie, è pesantissimo. Quindi io mi sento, consentitemi un passaggio rapidissimo in terra non napoletana, di ringraziare il popolo. Voglio anche essere accusato di populismo, ma non è populismo, perché il popolo, anche quando mi ha contestato, io l'ho visto sempre verace. Noi queste operazioni senza il popolo non l'avremmo fatto. Senza i movimenti, senza le associazioni, senza i centri sociali, senza i parroci ribelli, senza le contestazioni, senza quegli incontri che duravano all'infinito, le mediazioni serie, non i compromessi morali, gli accordi, i graffi e poi gli abbracci. E oggi il rispetto che abbiamo, perché non abbiamo tradito, sono pagine che in un paese democratico andrebbero raccontate. Invece abbiamo una stampa omologata, una magistratura sempre più disattenta, un disegno piduista che corrode sempre di più il nostro paese. Quindi io credo che, siccome ho seguito e concludo con molta attenzione ovviamente le tragedie ambientali che uniscono purtroppo il nostro paese, dal Fassi in Veneto alla Tissen, a quello che accade in Liguria o piuttosto in Calabria dove me ne sono occupato, la Terra dei Fuochi o la Basilicata, dobbiamo unirci in queste lotte e vi assicuro, gli strumenti ci sono. Ve lo dice uno che ha fatto il sindaco senza un centesimo d'euro. Anzi, quando mi sono insediato ho fatto la battuta, non solo si erano pigliati tutti i soldi, lo dico in napoletano perché lo disse in napoletano, si erano pigliati pure la cassa. Cioè si erano pigliati i soldi e la cassa. Non c'era niente. Eppure tutte queste battaglie le abbiamo fatte andandoci a prendere fondi europei, lottando, partecipando a bandi nazionali, con il capitale umano collettivo fatto di tante individualità in una città molto difficile, molto complessa, dove il popolo è anche molto umorale. Quindi credo che gli strumenti giuridici ci sono. Ho fatto l'esempio dell'ordinanza che inquina paga. È l'unica. Se voi fate una ricerca non ne troverete altre. Questo arretto è la cosa anche molto bella che c'è stato un coinvolgimento non solo della parte politica. Non è stato solo il sindaco, gli assessori, la maggioranza, una maggioranza molto popolare, molto atipica perché aveva l'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia. Ma sono stati i tecnici, i dirigenti del comune, il capo dell'avvocatura, il direttore generale, il segretario generale. Quindi pensate che bello avere al tuo fianco gli amministrativi, cioè quelli che vengono spesso bollati come quelli che non vogliono lavorare, che hanno paura. Sì, in parte è vero, ma quando ci sono le motivazioni, quando fai qualcosa per la tua città, quando ti rendi conto che c'è una squadra dove nessuno viene lasciato solo e nessuno viene lasciato ultimo, noi in questo paese abbiamo tante risorse, a Torino come a Napoli, a Palermo come a Milano, che le dobbiamo però motivare e dobbiamo avere. E concludo la Costituzione come fare. A me ha guidato sempre la Costituzione. La Costituzione non è una reliquia. La Costituzione non è un libro da biblioteca. La Costituzione non è un libro da agitare solo il 31 dicembre con i discorsi dei Presidenti della Repubblica o il 25 aprile. Non è sufficiente essere antifascisti per ritenersi buoni attuatori e custodi della Costituzione. La Costituzione c'è tutto. La Costituzione è uno strumento giuridico, la Costituzione è salvertice della piramide del diritto. Quindi ogni norma, ogni provvedimento amministrativo, ogni delibera, ogni legge, ogni circolare dovrebbe battere con il battito cardiaco della Costituzione. Si può fare, certo, ci vuole coraggio. Il coraggio non si compra al mercato, non c'è dubbio. Però credo che Napoli ha rappresentato una testimonianza controcorrente, per questo silenziata, per questo adesso cancellata. Però vi posso dire che tanta gente invece ce lo riconosce, non ha dimenticato, e anche grazie a inviti come il vostro, di cui io vi ringrazio davvero tanto, perché per noi è anche l'opportunità per raccontare cose che io mi auguro siano sempre più raccontate nei convegni, nelle università laddove le fanno dire, nelle scuole, ovunque. Perché io sono sempre uno che guarda la luce fuori dal tunnel. Non mi appartiene né la rassegnazione, né la lamentela, né il pensare che sono tutti uguali e rubano tutti alla stessa maniera, perché non è affatto così. E lo dimostra anche un dibattito come quello di stasera, lo dimostrano le tante lotte, le tante persone per bene. Io ho visto tante persone lottare insieme a noi, dai sottoproletari ai disoccupati, ai borghesi, fino anche agli industriali, perché pure sta lotta di classe, sì, ma fino a un certo punto, perché certe volte trovi anche gente che fa impresa, liberi professionisti che sono persone per bene. Cioè è stata una rivoluzione popolare, perché su Bagnoli anche agli imprenditori per bene hanno capito che potevano con una visione pubblica investire finalmente persone per bene e non le lobby che vanno a braccetto con la politica o i poteri forti della finanza e dell'economia o le mafie, le camorre e le indranghete. Quindi è stata un'opportunità popolare. Quindi io sono a disposizione anche a fornirvi materiale giuridico, materiale amministrativo, consulenze gratuite, mettervi a disposizione con anche i miei assessori, dirigenti, perché ho avuto veramente una grande squadra fatta di donne uomini che hanno anche sbagliato, ma che hanno lavorato veramente per passione e con il bene comune come obiettivo prioritario di un'azione politica e amministrativa. E quindi Bagnoli credo che può essere un esempio anche perché finora con tutto il martellamento e l'attività di sgregatrice che sta mettendo in campo la giunta Manfredi è davvero concludo, noi abbiamo anche costruito delle delibere che non è facile smontare. Perché poi avendo fatto il magistrato e avendo amministrato con persone competenti abbiamo anche costruito delle fondamenta che insomma devono usare la bomba atomica per buttarle giù. E mentre usano la bomba atomica noi stiamo pronti a reagire, oggi a Napoli abbiamo fatto una bellissima manifestazione a Napoli sul diritto alla città, abbiamo rimesso insieme tutte le associazioni e tutti i movimenti, quindi mi sa che sta finendo anche l'epoca della narcotizzazione dell'oppio che hanno inalato per fermare le rivolte popolari. Quindi noi ci saremo, è un messaggio che abbiamo mandato al sindaco, non consentiremo la distruzione di ciò che è rappresentato un patrimonio comune della città e della collettività e non un patrimonio di un sindaco che da solo non va da nessuna parte, ma ha cercato semplicemente di interpretare il mandato popolare che mi fu dato in un'ottica rivoluzionaria e non di accomodamento nel sistema e la rivoluzione come sapete non è una suonata di violino al teatro San Carlo. Grazie, spero di avervi non annoiato, non appesantito, non è solo entrato molto nel tecnico perché forse non mi sembra il caso, però tutti i documenti dove c'è di tecnico e di approfondito sul piano amministrativo e sul piano anche proprio tecnico sono a vostra disposizione. A nome di tutti noi presenti, di tutte le persone che sono in collegamento e che l'hanno ascoltata, un vivissimo ringraziamento per la partecipazione e per la densità degli argomenti e per il peso delle parole. Da queste parole voglio partire. Lei ha parlato di possibilità per le pubbliche amministrazioni, per i sindaci, per i consiglieri, per le cittadinanze, purché si abbia voglia, coraggio e forza. Queste tre qualificazioni mi sembrano esattamente puntuali, assolutamente pregnanti. Si tratta di vedere se abbiamo, se avremo insieme alla politica istituzionale questa voglia, questo coraggio, questa forza. La voglia la stiamo esprimendo questa sera. Il coraggio non manca, ci sono qui delle persone che di coraggio nella propria vita ne hanno speso talmente tante su tante battaglie a cominciare da Maria Angela. La forza, questa, questa è un'altra questione ancora. E va appunto coltivata, curata, innaffiata attentamente. Io adesso dovrei passare la parola a Alice Ravinale che è la... Se volete, prima di salutarvi, se volete posso mettere a disposizione un po' della mia forza a titolo gratuito. Grazie. Grazie. In modo da unire pure l'Italia e cose belle. Grazie. Buona serata.